Sono stati tanti gli appassionati nuoresi di animali che domenica hanno partecipato alla quinta EMPA Expo, la manifestazione cinofila amatoriale promossa dall'EMPA provinciale di Nuoro, l'internazionale protezione animali presieduto da Maria Paola Boneddu. Un appuntamento che si è tenuto in concomitanza della quindicesima edizione delle giornate nazionali degli animali che si pongono l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche che incontrano a vari livelli gli animali presenti sul territorio nazionale, ma anche sottolineare l'importanza che gli amici a quattro zampe rappresentano per la serenità e la felicità delle persone. L'evento si è tenuto nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele e ha visto al mattino i border colli della scuola di agility di Ghilarza e di Antonio Manca esibirsi in esercizi di obbedienza e percorsi vari, eseguendo anche delle ricerche in superficie di oggetti. Inoltre, grazie al supporto del servizio veterinario della ASL, è stata data la possibilità di microcipare i cani che ne fossero stati ancora sprovvisti. L'EMPA infatti ricorda che l'anagrafe canina è uno degli strumenti tra i più importanti per controllare il fenomeno del randaggismo e degli abbandoni. Nel pomeriggio invece si è tenuta la sfilata cinofila amatoriale che ha visto la partecipazione di concorrenti, cani meticci e di razza provenienti da tutta la Sardegna. Sono stati giudicati da una giuria composta dal giornalista Luca Gentile, da Gustavo Zeda, campione del mondo nel 2008, Sergio Grassi, pluricampione italiano, addestratore del legato Ence, Chiara Seci, educatore cinofilo Fisk. L'EMPA ha consegnato a tutti i partecipanti un ricordo mentre i primi tre classificati di tutte le categorie e i vincitori del Best in Show hanno ricevuto le medaglie e i sacchi di crocchette offerti dagli sponsor. Alla sfilata sono intervenuti anche Daniela Floris e il suo insaprabile Shonny, un piccolo meticcio testimonial di alcune campagne contro la violenza sulle donne e l'abbandono degli animali.